L'inchiesta della procura di Catanzaro e quella della procura federale procedono su due binari completamente diversi. Anzi, quella del procuratore federale Stefano Palazzi ancora non inizia. A Roma sono in attesa che arrivino le carte dalla Calabria, ma i tempi non sono poi così stretti. Il Teramo può contare, e deve continuare a farlo, proprio sul fattore temporale che al momento gioca a suo vantaggio. Domani pomeriggio a Catanzaro si presenteranno il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Libera D'Amelio. Alle 15 due saranno di fronte agli inquirenti e solo domani sapremo se Di Giuseppe risponderà alle domande oppure se si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'avvocato D'Amelio sta valutando in queste ore, insieme al suo assistito, la strategia da seguire. Intanto un piccolo ma significativo successo la linea difensiva l'ha ottenuto, vale a dire il blocco del controllo dei telefonini e degli apparecchi elettronici che sono stati sequestrati mercoledì mattina a Campiteglie di Giuseppe. La mossa della D'Amelio non deve essere piaciuta molto alla Procura calabrese, che alla fine controllerà tutto, ma è sicuramente servita a guadagnare giorni. Perché, come detto, il fattore tempo in questi casi è fondamentale. Il Teramo deve arrivare al 30 giugno in grado di potersi iscrivere al campionato di Serie B senza che nessuno dalla Procura federale possa bloccare l'iscrizione. Sarebbe un primo passo verso la partecipazione al campionato cadetto. Questo non significa che il Teramo sia colpevole, ma in questi casi i giudizi sommari affrettati della giustizia sportiva potrebbero negare alla società biancorossa i tempi e i modi di dimostrare la propria innocenza. E allora facciamo partire la stagione e poi vediamo come sono andate le cose. L'avvocato Edoardo Chiacchio, infatti, il legale sportivo del Teramo, ancora non scende in pista. Non ha ancora la documentazione per iniziare a lavorare ed è in attesa che si concludano le prime fasi dell'istruttoria. Giornata importante sarà quella di domani, ma giornata fondamentale sarà quella di venerdì, quando a Catanzaro si presenterà Luciano Campitelli con il suo legale, l'avvocato Renato Borsone. Il presidente del Teramo si dice forte delle proprie convinzioni e di quello che ha fatto e soprattutto di quello che non ha fatto. Campitelli ha giurato a ripetizioni e ha continuato ad affermare che lui, con Ercole e Di Nicola, non ha mai parlato prima della partita di Savona. L'unico colloquio sarebbe stato subito dopo la gara, quando Di Nicola e Campitelli hanno parlato per pochi secondi con il primo che faceva i complimenti per la promozione e il secondo che ringraziava. Il nulla per dimostrare una combin. La posizione di Campitelli è ovviamente quella più delicata. Solo nel caso in cui la Procura federale dovesse avere le prove di un suo coinvolgimento diretto, il Teramo potrebbe dire addio alla Serie B.